Ecco, pensate a questa scienza, no? A questa scienza che andiamo sulla Luna, andiamo su Marte, l'antimateria, la tecnologia e tutte queste cose, poi magari fa quattro gocce di pioggia e la città si affoga, fa quattro schizzi di neve, quattro fiocchi di neve e la città si paralizza, fa un terremoto e ancora stiamo con le case in calcestruzzo, ma proprio lo struzzo con le penne, le piume dello struzzo ci abbiamo. Pensate, ecco, questa scienza, questa tecnologia che è fantastica, fantastica, che ci consente di andare sulla Luna, ma non ci consente di fare delle case che resistono a un terremotino, delle città che quando piovono non si allagano, quando piove non si allagano, e poi magari rimaniamo bloccati nei paesini perché c'è la neve. Ecco, la scienza, la tecnologia, che noi spendiamo miliardi, miliardi e miliardi per andare sulla Luna e ci abbiamo casa allagata, ci abbiamo la casa piena di ghiaccio di neve, abbiamo gente incastrata nelle case avvolte da un metro, due metri di neve che non può uscire con il tetto che gli cade in testa. Abbiamo il terremoto dell'Irpinia dell'80, quando è, quant'era, non mi ricordo che la gente ancora sta in mezzo alla strada, abbiamo case che qualcuno è riuscito a costruire, una casa di legno nel terremoto dell'Aquila per dare una casa a qualcuno che non ce l'aveva più e lo hanno denunciato per abusivismo edilizio. Ecco, la scienza, questa scienza che pensa veramente, pensa veramente a tutto, questa scienza, perché noi abbiamo la casa col terremoto che crolla il calcestruzzo, però andiamo, mandiamo le sonde su Marte, la fisica quantistica, ma secondo voi no? Ma secondo voi? Poi dice che, ma Spettro deve essere stupido perché quella è la tecnologia, la scienza che ci dà lustro, che ci dà in qualche modo la conoscenza. Ci abbiamo la storia, la nostra storia riscritta dai vincitori, quindi è tutta falsa. Ci abbiamo una geografia che non si capisce bene se sta a terra come è fatta. Ci abbiamo la scienza che ci porta sulla Luna mentre sulla Terra ci affoghiamo con due gocce d'acqua e ci congeliamo con due fiocchi di neve e ci crolla in testa il tetto con una piccola scossetta di terremoto. Ma di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? Ci abbiamo le malattie, il cancro che la scienza sta cercando disperatamente di curare e poi ci accorgiamo che è veramente la tecnologia, la scienza stessa che ci fa il fast food, il forno a microonde, il telefono cellulare che mandano radiazioni schifo su schifo e magari si viene a sapere che è proprio quello che ci porta il cancro la scienza così controversa ma a me mi vengono proprio i dubbi ma io sto davvero sognando un bel giorno forse mi sveglierò un bel giorno mi sveglierò e dirò dai è stato tutto un sogno così pazzesco possibile che non ti sei reso conto spettro che è tutto un sogno è un sogno dai fra poco ti sveglierai non è possibile che così sia così palese la stupidità umana è così palese la stupidità umana io penso di no dai ragazzi svegliamoci stiamo tutti sognando non è possibile non è possibile questa cosa non è possibile che le armi benediciamo le bombe perché dovranno portare la pace questa bomba porterà la pace io sono francamente allibito di tutto quello che sta succedendo io vorrei farvi una contattata confidenza vorrei sapere se anche voi negli ultimi anni sentite questa tensione nervosa perenne come se fosse una sorta di elettricità che si trova nell'aria come se da un momento all'altro dovesse succedere qualche catastrofe e puntualmente succede una catastrofe di qua una catastrofe di là una pioggia torrenziale da una parte uno tsunami dall'altra una centrale nucleare che esplode da un'altra parte del pianeta è un continuo un tifone un tornado qualsiasi cosa cioè quello che sta succedendo negli ultimi anni è pazzesco il riscaldamento globale non ha mai fatto così freddo almeno per quanto riguarda l'Italia non ha mai fatto così freddo cioè il riscaldamento da che? cioè ah ma sì ma il riscaldamento dall'altra parte del mondo si sta sempre dall'altra parte del mondo il problema? cioè non capisco è tutto così strano cioè volete vogliamo svegliarci ci svegliamo perché sicuramente noi stiamo sognando stiamo sognando mentre rincorriamo l'antimateria e rincorriamo l'annichilazione dell'antimateria che ci dà un'energia incredibile ok? l'annichilazione l'antimateria che è una materia con un segno opposto no? un polo opposto che abbiamo i nostri scienziati dicono che c'ha una possibilità di creare la più grande energia che possiamo trovare in natura però per fare l'antimateria occorre un'energia di gran lunga superiore e comunque noi mentre pensiamo all'antimateria pensiamo alla scienza pensiamo a ste cose succede che piove e ci allaghiamo la gente muore si affoga e succede che i fiocchi di neve spallano i tetti che i terremoti spallano le case che la gente rimane senza case mala questa scienza e noi buttiamo soldi in ricerche ma che cacchio stiamo a ricercare? ma che stiamo ricercando? cosa stiamo cercando? ma io io sono sto impazzendo? sto impazzendo si spettro impazzito spettro impazzito spettro impazzito